ciao a tutti allora oggi non mi vedete qui a fare video o video tutorial o qualsiasi cosa sia inerente al trucco o quant'altro vorremmo però farvi un augurio speciale di buon natale spero insomma vi faccia piacere perché innanzitutto vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso quest'anno quindi mio canale è stato un anno fantastico perché ho dovuto cambiare insomma però sono felice perché mi avete seguito anche di qua e quindi vi mando tutti gli auguri più affettuosi perché possiate passare il natale più bello che potete spero passiate insomma con la vostra famiglia con i vostri amici comunque con le persone che amate che vi amano e a cui volete bene e soprattutto che vi vogliono bene spero siate serene felici e anche magari che spero riceverete dei bei regali qualsiasi cosa sia insomma spero vi facciano felici davvero noi comunque ci vediamo prossimamente ovviamente per i soliti video tutorial eccetera eccetera spero mi seguirete ancora vi bacio fortissimo vi abbraccio e ancora tanti auguri buone feste ciao